carissimi ascoltatori purtroppo devo darvi un orribile notizia come forse già sapete giovedì e venerdì scorso si è tenuta una riunione del consiglio europeo che cos'è il consiglio europeo è quell'organo formato dai capi di stato e di governo che detta le linee generali di politica dell'unione europea ebbene come solitamente accade la conclusione è stato diramato un comunicato nel quale appunto si riassume si riassumono le principali conclusioni a quali sono giunti i capi di stato e di governo tra le tante assurdità che sono state sottoscritte ve ne è una della quale vi voglio parlare immediatamente perché mi riguarda anzi ci riguarda si parla infatti di informazione guardate i disinformatori di massa i creatori di bufale seriali a che punto sono giunti guardate con che coraggio sono arrivati a mettere nero su bianco queste parole la diffusione della disinformazione intenzionale sistematica e su larga scala anche nel quadro della guerra ibrida rappresenta una grave sfida strategica per i nostri sistemi democratici e richiede una risposta urgente che deve essere mantenuta nel tempo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali consiglio europeo quindi è preoccupato per la tenuta democratica dell'europa in previsione delle prossime elezioni del maggio del 2019 e a questo riguardo sottolinea la necessità di una risposta decisa che affronti la dimensione interna e quella esterna e che sia globale coordinata e dotata di risorse adeguate sulla base di una valutazione delle minacce chiede l'attuazione tempestiva e coordinata del piano d'azione congiunto contro la disinformazione presentata dalla commissione e dall'alto rappresentante in modo da potenziare le capacità dell'unione europea rafforzare le risposte coordinate e congiunte tra l'unione e gli stati membri mobilitare il settore privato e accrescere la resilienza della società alla disinformazione ed infine chiede un intervento rapido e decisivo a livello sia europeo sia nazionale per assicurare elezioni europee e nazionali libere e regolari avete capito questo vuol dire che chiunque si azzarderà a scrivere o a parlare in maniera critica dell'unione europea verrà considerato nel migliore dei casi un disinformatore ma più probabilmente un attentatore alla democrazia dell'europa un documento di questo genere non può che essere stato scritto in un regime dittatoriale ebbene cari ascoltatori vi devo purtroppo comunicare che questo documento è stato sottoscritto anche dal nostro premier conte e allora delle due luna o conte sapeva perfettamente quel che stava firmando e allora ci troviamo di fronte al più grande tradimento del voto popolare dell'italia repubblicana oppure conte non si stava rendendo di quel che stava firmando e allora ci troviamo di fronte a una persona incapace di intendere e di volere perché se un documento di questo genere fosse stato sottoscritto da Renzi avremmo gridato allo scandalo e forse saremmo scesi in piazza per protestare e per difendere la libertà di informazione mentre oggi questo documento sta passando sotto silenzio ma io non me ne sto zitto e allora mi rivolgo a delle persone la cui onestà intellettuale non ho mai messo in dubbio come Claudio Borghi ed Alberto Bagnai ed in particolare però mi rivolgo a Marco Zanni che so per certo essere la persona che in Europa più si è battuta per difendere la libertà di informazione e allora caro Marco ti chiedo anche se non puoi parlare in questo momento di tranquillizzare di tranquillizzare gli italiani ebbene dovresti dire che l'Italia non si è rassegnata a vivere in un sistema dittatoriale che non sarebbe stato diverso da quello che avremmo avuto se Hitler avesse vinto la guerra. Stavolta faccio davvero fatica a sorridere.